Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi proveremo un nuovo servizio online, un prodotto che ho visto sponsorizzato tantissime volte su Instagram, su Facebook e condiviso da tantissime persone, si tratta di Tonki. Tonki è un'azienda che stampa le vostre fotografie direttamente sul cartone e l'imballo, il cartone, è di per sé la struttura della foto che poi va piegata e si può appendere al muro o mettere in piedi su un mobile, su una scrivania, ovunque vi pare. E ragazzi adesso magari ve lo mostrerò meglio perché andremo a fare assieme l'ordine di due Tonki dove farò stampare le foto del mio viaggio a Londra, quindi vedremo qual è effettivamente il risultato. La cosa che mi piace tantissimo è che è stampato su cartone, totalmente riciclato, quindi gran bella cosa, complimenti a Tonki. Ma adesso andiamo a vedere assieme il sito. Eccoci sul sito di Tonki, andiamo prima di tutto ad accedere alla piattaforma, io lo farò tramite Facebook, ok. Ecco qui il nostro Tonki. Possiamo scegliere sia la versione quadrata che è 25x25 cm, altrimenti c'è anche la versione Nana che invece è molto molto più piccola e poi abbiamo la versione suddivisa in quattro parti dove la foto verrà splittata in quattro parti, quella in nove e quella addirittura in 16 mini Tonki. Io andrò a scegliere quella classica da 25x25. È possibile importare la foto da mettere nel vostro Tonki sia direttamente dal computer ma anche da Instagram o da Facebook, quindi non è necessario avere grandissime abilità per poter prendere la foto e appiccicarla sul vostro Tonki virtuale. Quindi io però l'andrò a prendere dal computer perché ne ho già selezionate un paio tratte dal mio viaggio e direi di cominciare da questa. Eccola qui caricata. Naturalmente possiamo ridimensionarla, possiamo o zoomare, quindi ingrandirla o ad esempio qui con le freccette spostarla. Io vorrei centrarla un po' di più. Ecco qui, sono io che tengo tra le mani la spada di Grifondoro con attaccata la coppa di Tasso Rosso. Ecco, magari la ingrandiamo leggermente di più. Ok, direi che così possa andare e adesso non resta che aggiungerla al carrello. Quindi clicchiamo e aspettiamo il caricamento. Ecco che si è aggiornato il totale parziale del carrello che è arrivato a 9,99, quindi vedete prezzo abbordabilissimo. Carichiamo la seconda foto che ho scelto ed è questa qui che invece è la foto che ho fatto assieme a mio fratello all'interno della Ford Anglia. Quindi la foto mi va già benissimo così e quindi clicchiamo ancora una volta su aggiungi al carrello. Bene, totale parziale 19,98. Andiamo al carrello, paghiamo e mandiamo il nostro ordine in lavorazione e spedizione. Ovviamente ragazzi c'è qualcosa anche per voi. Utilizzando il codice sconto Antonio serie 10 avrete il 10% di sconto sull'ordine del vostro Tonchi. Quindi sotto in info box naturalmente trovate il link diretto al sito, il codice sconto e tutto. Adesso direi di completare l'ordine, inserire i dati di spedizione e con la solita magia dell'editing tra poco più di 3 secondi ecco che avremo già il nostro Tonchi tra le mani. 3, 2, 1... Ed eccomi qua ragazzi, già di ritorno sembrano passati solo 2 secondi ma in realtà non è passato poi neanche così tanto tempo perché devo dire ottimo servizio quello di Tonchi visto che io ho registrato la prima parte domenica pomeriggio e già oggi mercoledì ho ricevuto i miei Tonchi quindi semplicemente 3 giorni ma neanche perché oggi è mercoledì quindi 2 giorni e l'ordine è stato anche fatto di domenica quindi in un giorno non felicissimo devo dire ottimo il servizio, ho ricevuto una montagna di mail con tutti i link per i vari track addirittura un video dove mi veniva spiegato come montare il mio Tonchi e devo dire super super soddisfatto per l'assistenza del prodotto ma adesso andiamo ad aprire questa busta e vediamo com'è realmente il prodotto finito quindi vediamo un po' ecco qui, arrivano in questa bella scatolina in cartone con scotch anche in questo caso di carta devo dire che ci tengono davvero tantissimo all'ambiente questa è una cosa molto molto positiva tutti i Tonchi sono realizzati in cartone riciclato e naturalmente questo è solo che ha vantaggio dell'azienda quindi tanto di cappello e ragazzi ecco qui i nostri Tonchi che da quello che ho potuto vedere nei video non è così difficile montarli quindi chiudiamo questo che andrà assolutamente riciclato e andiamo a vedere cosa c'è all'interno per prima cosa vedo che mi è stato inserito un codice sconto del 25% da utilizzare lunedì 11 novembre e probabilmente lo utilizzerò vi dico la verità poi un altro volantino molto molto carino che va a riprendere una schermata di Instagram e troviamo sia l'hashtag Tonchi che il loro profilo ufficiale che naturalmente vi invitano a seguire che è Tonchi underscore design quindi troverete tutto naturalmente sotto nell'info box e io andrò sicuramente a seguirli e poi ecco qui i nostri due Tonchi che sono confezionati singolarmente e sul retro hanno anche le istruzioni io direi di andare subito a montarne uno e mi viene anche detto che tramite il nostro smartphone possiamo collegarci a tonchi.com slash o2 e naturalmente ci sarà il video con la spiegazione di montaggio questa qui con le istruzioni la mettiamo da parte e andiamo ad aprirla troviamo la foto stampata qui su questa parte frontale e poi questa che invece è la parte sul retro che andrà a comporre la cornice stessa del nostro Tonchi io ho visto più o meno già il video quindi la cosa intanto principale che ricordo è che bisogna capovolgerlo faccia in giù il passo numero 2 è quello di andare a piegare verso l'interno la parte più grande quindi questa parte qui e questa parte qui non la parte dove è stampata la foto ma l'altra parte questa qui e bisogna andare a seguire le linee che già sono premarcate e andare a piegarle seguendo il loro verso perfetto una volta che siamo giunti ad una situazione di questo tipo ecco che dobbiamo andare a fare la terza parte che è questa qui piegarla così da bloccare queste altre due laterali sempre con lo stesso metodo piegare e incastrare ed ecco realizzato anche il terzo lato che va a tenere tutto assieme adesso passiamo alla parte stampata quella con la nostra foto che dovremmo naturalmente piegare verso l'interno e poi piegando anche le alette in due punti ecco che si andrà ad incastrare perfettamente sotto i bordi ma adesso vi faccio capire meglio ecco qui basterà spingerlo semplicemente verso l'interno ed ecco che il nostro Tonki è pronto devo dire che il risultato finale è davvero molto molto soddisfacente non serve colla non serve scotch non servono forbici non serve assolutamente nulla solo le mani e un po' di attenzione è davvero molto bello il risultato ci sono tantissime composizioni disponibili anche Tonki composti da più pezzi in questo momento ci sono anche diverse promozioni 7 più 7 davvero tante cose molto molto interessanti io vi lascio il link sotto al sito a tutti i social e il codice sconto per avere 10% di sconto sul primo ordine e naturalmente questi possono essere sia appoggiati così perché stanno tranquillamente in piedi ma anche appesi al muro tramite il foro e poi piegando la parte sul retro è anche possibile tirare fuori le alette in modo da posizionarle a mo' di cornice ad esempio quella classica che troviamo sui comodini davvero molto molto bella io adesso vado a montare anche l'altra così ve la mostro ed ecco anche il secondo Tonki ragazzi è stato davvero semplicissimo avrò impiegato sì e no 30 secondi è davvero super rapido da montare una volta fatto il primo si va spediti e si possono realizzare anche altri 20 Tonki in pochissimi minuti davvero molto molto bella come idea mi piace tantissimo approvata credo proprio che stamperò altre foto sui Tonki e vorrei provare anche quelli di dimensioni più piccole perché mi sembra davvero un metodo molto molto interessante in questa foto ci sono io con la spada di grifondolo tra le mani all'interno della camera blindata dei Lestrange ragazzi naturalmente provate come vi dicevo tutti i link sotto in infobox sia al sito che al codice sconto e a tutto il resto io ringrazio tantissimo Tonki per avermi dato l'opportunità di provare questo servizio e di potervelo recensire io sono assolutamente soddisfatto e lo approvo a pieni modi ragazzi detto questo io vi do appuntamento prestissimo con tante altre novità e vi ricordo di seguirmi su Instagram Antonio.seria lasciare un mi piace commentare e condividere il video con i vostri amici ciao ciao